Ed eccoci qua sempre dal nostro bellissimo ufficio, Sir Lute, in compagnia di un personaggio che sicuramente del mondo del vino è molto esperto, ma soprattutto anche per quel che riguarda il nostro territorio, sicuramente è una voce che sa dire e dare la sua importanza. Allora io subito incomincierei intanto, augurandole il buongiorno e come va, tutto bene? Grazie per l'apprezzamento! Tutto molto molto bene direi, allora io a lei chiederei un attimino quello che è la vera importanza di questa festa dell'uva, arrivata al 92esima edizione, ma anche l'importanza vera di una festa che è fondamentale sia per il nostro paese, ma soprattutto anche per la nostra cultura. Sì, in realtà ieri ha dato dimostrazione del grande affetto che c'è della gente, gente in senso totale, consumatori appassionati, non appassionati, che sono venuti a Bardolino per festeggiare ed assaggiare sia il vino che la gastronomia, perché in realtà il vino è legato un po' alla gastronomia, la gastronomia delle nostre associazioni ha voluto fare delle cose magnifiche perché ognuna rispecchia la sua tradizione, da risotto al granchio blu. Il granchio blu che abbiamo visto con il signor Gradilone ieri. che andremo ad assaggiare. Bene, quindi il Bardolino, questo vino, diciamo storico, delle nostre zone, attrae perché è versatile, è versatile dal granchio blu alla bella bistecca. È vero, si sposa. Si sposa un po' di tutto, si sposa un po' di tutto quanto. Quindi noi abbiamo il Chiaretto, sicuramente il Chiaretto fresco come è in questo momento qui, che c'è un'estate inoltrata. Molto prolungata direi quest'anno, è vero, è vero. Giustamente il Bardolino, diciamo rosso, versato fresco, sui 15 gradi, è stupendo anche questo perché indubbiamente ha delle sostanze, delle sapidità. Ma c'è anche questa sostanza che è stata studiata anche nel passato, che è il resveratrolo. Il resveratrolo è una sostanza antiossidante che ci fa bene. Invece di prenderlo in pillole, bevete un bicchiere di vino rosso, che va sempre bene, e di Bardolino, perché qui il clima, in questa zona qui, ci sono pochi climi che danno la produzione di questo resveratrolo, perché il clima umido di notte e ben soleggiato di giorno fa che intorno all'acido c'è una sostanza che si chiama pruina, che è la padinina bianca. Lì si forma il resveratrolo, e solamente su alcune uve, tipo la corvina, oppure anche il pino nero, per le zone del pino nero. Quindi la corvina è ideale per la formazione di questo resveratrolo. C'è stato proprio un studio, è stato studiato, per vedere la quantità. Quindi c'è una bellissima quantità. Quindi se si vuole essere giovani e rimanere giovani, un bicchiere di Bardolino va sempre bene e ci fa antiossidante. Direi, direi sicuramente. Anche questo aspetto, se vogliamo un po' più specifico, è importante e fondamentale nel momento in cui andiamo anche a parlare di un prodotto che sentiamo nostro, ma soprattutto anche che rispecchia il nostro paese. Questo è sicuramente un aspetto fondamentale. Ma lei invece, signor Liut, un ricordo che ha della Festa dell'Uva, ad esempio? Ah, indubbiamente la Festa dell'Uva adesso è più moderna, più accattivante, legata. Un tempo era legata un po' alla tradizione. Indubbiamente penso che ci faranno la vendemmia anche lì, la pigiatura dell'Uva. Certo. La pigiatura dell'Uva è quella che rappresenta un po' il momento, perché ancora in certe aree si pigia coi piedi. Si pigia coi piedi, infatti. Si pigia coi piedi. E quindi, perché è un'Uva leggera che è benissimo, si stacca fortemente e velocemente dalla buccia. E quindi dà anche coi piedi, specialmente i piedi femminili. Quindi femminili che insomma non disdegniamo mai, perché chiaramente fa parte anche quello un po' del discorso inerente alla pigiatura di quello che era una pratica che veniva utilizzata molto spesso, specialmente per i vini, come si diceva appunto adesso, di una certa anche caratura, diciamo così un attimino. E proprio la festa dell'Uva dava il... era il là che a cavallo della festa dell'Uva c'era la vendemmia. Perché l'Uva, la corvina, è un'Uva di maturazione tardiva e quindi è in questo periodo qui. Non è ai primi di settembre. A metà agosto, come per esempio di Chardonnay e altre cose. E tardiva, quindi va verso la fine di settembre. Perché diciamolo, adesso io sono un po' ignorante in materia, ma perché sono anche a Stemio, Sio Lut, quindi la festa dell'Uva per me è solo un aspetto gastronomico. Ma può anusarlo, però. Potrei anusarlo, ho visto anche il naso, insomma. E poi metterlo in bocca e dopo magari spurtarlo. Sì, potrebbe imparare. Potrei avvicinarmi a questo mondo, sicuramente. No, ma quello che dicevo, i vini bianchi in teoria o in pratica anche, che forse è meglio, maturano prima, mentre il rosso... Sì, c'è solo a livello della corvina c'è la garganica. Sì. E' tardiva. Ma la maggior parte delle uve bianche maturano dal 15, adesso dal 15 di agosto a fine agosto. Però, 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 però. Allora, anche una domanda che mi ha sempre interessato condividere con lei è quella del capire anche, visto l'evoluzione che ha avuto la festa dell'Uva nell'arco degli anni, e ha un po' di rammarico, tra virgolette, al pensare a com'era inizialmente la festa dell'Uva, nel senso andare a ricordare proprio quello che era una festa prettamente di paese. Adesso vediamo invece che, fortunatamente, è una festa che va condivisa con anche i turisti, che sono un aspetto fondamentale del nostro paese. Ma come si riesce a incastrare il turista all'aspetto appunto del nostro paese e delle radici del nostro paese? Ma il, ovviamente, l'evoluzione dei tempi c'è, quindi non bisogna pensare solamente al passato. Il passato ha fatto in modo che ci sia la festa di adesso. E il valore, diciamo, economico da parte dei produttori che tengono queste colline magnificamente visitabili e quindi coltivate, questo è un grande valore, perché vuol dire che ci credono e vuol dire che il Bardolino ha un suo grande mercato internazionale. Quindi anche il fatto di essere un vino internazionale attira la gente, che viene a vedere direttamente in zona come si produce. Giustamente c'è la festa qui in piazza o lungo lago, ma c'è un grande, diciamo, via vai nelle cantine. Nelle cantine, è vero? Che vanno a assaggiare, che vanno a acquistare, perché prima assaggiano qui e poi vanno nelle cantine, visto che l'hanno trovato magnifico, per andare a comprare e assaggiare e anche vedere esattamente dove si produce questo vino. Perché è importante che il turista si porti via questa immagine del vino e quindi quando beve in Germania o in Danimarca o in Inghilterra, beve una bicchiera di Bardolino, si ricorda della sua vacanza. È vero, perché comunque noi lo accompagniamo in tutto il suo percorso, sia dal punto di vista del vino, quindi portandolo in cantina e facendolo scoprire il vino, ma anche dal punto di vista dell'accoglienza, visto i numerosi alberghi che riusciamo a mettere a servizio dei turisti. È interessante e non da sottovalutare anche come sia fondamentale per l'economia del nostro paese, sia il turista, ma soprattutto anche queste feste che è vero vanno a combinare un po' quello che era la Bardolino di una volta con quella che è la Bardolino e la naturale evoluzione che abbiamo visto. Sicuramente Bardolino, oltre a certi paesi, fanno la festa dell'ospitalità, ma la festa dell'ospitalità si può fare dalla Calabria alla Germania. Qui ovviamente c'è la festa di un prodotto che è legato all'economia turistica, con gli alberghi, i ristoranti, eccetera, che si sviluppa poi nel mettere in tavola dei prodotti gastronomici del lago, quindi i nostri bei pesci e ovviamente il vino prodotto dagli agricoltori. Direi, direi sicuramente. Un segreto, visto che lei sicuramente saprà un segreto per fare un buon vino, ad esempio, Sion Lut, un piccolo segreto che potrebbe svelarci questa mattina? Ma, indubbiamente per fare un buon vino ci vuole un'uva matura, sana e che questo sole quest'anno ci dà. Quindi sarà una grande annata per il Bardolino. Il sole è fondamentale, il sole è fondamentale. Allora, visto che, insomma, il Sion Lut è stato molto esaustivo fino adesso, noi ci stiamo avvicinando alla domanda finale, che non sarà che animale si sente in questo zoo comunale, perché, insomma, se no mi brucia la prossima ospitata, Sion Lut, ma sarà un'altra domanda. Io intanto le chiedo progetti futuri, Sion Lut, perché so che lei è sempre molto collegato appunto al mondo del vino, visto che ci siamo noi intravisti per la presentazione della 92esima festa dell'uva in quelle delle cantine e le notti. E' un po' il suo mondo il vino, sì? Sì, sì. Sì, il mio mondo sia a livello promozionale come creazione e sviluppo dei consorzi di tutela del Bardolino, che è partito dai 70 fino a... l'ho mollato nel 2012, e indubbiamente per lasciare ad altri la conduzione. Però mi sono sempre, rimango sempre nel mondo del vino perché io sono enologo e quindi... E allora, graffati, ma allora io le chiedo, Sion Lut, ma lei di questa 92esima edizione della festa dell'uva, che vino si sente? Ah, beh, effettivamente, essendosi una bella temperatura, bevo un bel spumante di chiaretto di Bardolino. Chiaretto di Bardolino, allora Sion Lut non si smentisce mai, che dire? E' stato un piacere averla intervistata questa mattina perché comunque è sicuramente un personaggio degno di nota. E io la ringrazio. Ma di cosa? Sempre un piacere e buona giornata. Sì, per l'amicizia e per la chiacchierata. Ci proviamo sempre noi. Grazie. Buona giornata e grazie a lei. Salve. Grazie a tutti. Grazie a tutti.